Emergono importanti novità sul collegamento viario Passo San Giovanni-Cretaccio, un'opera tanto attesa da tutta la comunità alto-gardesana. Le forze politiche locali hanno espresso in più di un'occasione le preoccupazioni inerenti ai tempi di bonifica della discarica della Mazza e a tal proposito Stefano Miori, assessore all'urbanistica, ha fornito alcune importanti rassicurazioni che dovrebbero scongiurare pesanti ritardi. Per quanto riguarda il progetto, invece, la provincia ha inserito una modifica sostanziale che accoglie le istanze avanzate dal comune di Arco e del territorio. Nella nuova proposta si riduce notevolmente l'impatto ambientale e paesaggistico all'altezza della Mazza. Verrà aggiunto un piccolo tunnel di 100 metri, una bretella, che passa sotto la Mazza e sbuca nella parte alta. Quest'opera è di collegamento per il traffico che va verso l'oltresarca ed è indispensabile per la fase di costruzione dell'intero impianto, in attesa del completamento di tutta l'opera. La strada della Mazza, afferma Miori, verrà dunque depotenziata, anche se sarà impossibile renderla ad uso locale.